Purtroppo succede che abbiamo fatto un buon primo tempo. Siamo andati subito in vantaggio, credo al quindicesimo. Abbiamo avuto anche palle al primo tempo per chiudere la partita, però purtroppo non siamo riusciti a concretizzare. Poi nel secondo tempo siamo rientrati, di solito fisiologicamente ci siamo abbassati e abbiamo un po' subito l'Uri. In ripartenza abbiamo creato anche con guida quella palla a gole che non abbiamo concretizzato. E quindi niente, poi dopo due palle inattive ci hanno condannato purtroppo. Sì, il nostro obiettivo è quello, il secondo posto. Purtroppo non so come sono andati gli altri risultati, però rimane quello il nostro obiettivo. Poi se giocheremo da secondi o da terzi o da quinti ci giocheremo le nostre carte al meglio. Purtroppo non so come se giocheremo le nostre carte al meglio. Purtroppo non so come se giocheremo le nostre carte al meglio.